Buongiorno ragazzi, per chi non lo sapesse sono Giorgia Amato e oggi vi faccio vedere la mia esperienza alle QC Terme a Milano. Nel momento che era il mio compleanno non ho filmato tanto, anzi non ho tenuto praticamente il telefono, quindi non ho tantissimi clip, ma vi racconterò tutto. Sono arrivata alle 9 e mezza in struttura e ho chiesto se potevo fare colazione e non fanno la colazione, infatti sono andata al McDonald's che è di fianco alla struttura. Dopo aver fatto colazione sono entrata, ho fatto il check-in e ho pagato un ingresso su due, perché QC Terme, quando è il tuo compleanno, per una settimana ti permette di pagare un ingresso su due. Quindi mi hanno speso 58 euro perché mi hanno fatto l'ingresso giornaliero, diviso due persone. All'ingresso mi hanno dato questo regalo che guarderemo insieme, questa è la postazione dove ci si asciuga i capelli, dove vedete c'è persino la piastra, tantissima roba. Qua vi faccio vedere tutte le creme che si possono utilizzare. Oltretutto mia mamma che è venuta con me aveva dimenticato il costume, gliene hanno regalato uno, carino, oltretutto gli è piaciuto un sacco, quindi top. Dopo che ci siamo cambiate tutto, siamo entrati realmente dentro la struttura con le piscine e adesso vi lascio un po' le pochissime clip che ho fatto. Questo è l'ingresso, molto carino e questa è la mia stanza relax preferita dove ho dormito tantissimo. C'è tutta una parte anche sotto dove ci sono sauna eccetera, ma non l'ho filmata perché come vi ho detto non l'ho filmata quasi niente. Comunque quella era la piscina riscaldata esterna e questa è una sauna dentro un tram. Ragazzi adesso ve la faccio vedere bene, bellissime clip ovviamente perché io sono bravissima a registrare tutto. Però guardate la bellezza, mi spiace di aver filmato il signore ma lui era lì, vabbè, questa è la vita. Allora ho pagato 22 euro il buffet a testa e vi dico la verità non ne vale assolutamente la pena perché il cibo salato gli darei un voto 6, darei un 9. Il problema è che se tu pranzi oggettivamente vuoi mangiare del cibo salato e quindi anche no, fate guardate che belli questi piatti, però è dolce. Alle 4 abbiamo deciso di lavarci, questo è il risultato dei capelli, i bagni sono top, c'è shampoo, balsamo, creme, vi ho già fatto vedere tutti. Io senza il Dyson non so farmi i capelli, c'era anche la piastra ma questa è quella che sono riuscita a fare perché vabbè, sono dicappata, che ci devo fare. Avevamo compreso l'aperitivo ma non avevamo voglia perché ci abbiamo messo tipo 20 minuti a lavarsi tutto. Quindi non recensione aperitivo ma vedendo com'era il cibo eccetera sarebbe stato carino dato che era compreso, vabbè. All'uscita ci hanno fatto un altro regalo, ci hanno regalato due creme sia me che mia mamma. Essendo stata anche nel termo di San Pellegrino, sempre cuciterme, onestamente se dovessi scegliere tornerei là. Però per essere praticamente in centro a Milano non male. Ho messo pochissimo a raggiungerle con la metropolitana, da provare ci sta durante il proprio compleanno perché 58 euro a testa comunque non sono pochi. Volete fare qualcosa di diverso? Andateci.